Benvenuti, cari follower. Prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di supportarci innanzitutto ammirando questo video e iscrivendovi al canale, attivando al contempo la campanella su tutte le notifiche, in modo da ricevere una notifica subito dopo la pubblicazione di ogni nuovo video e subito dopo l'accadimento di qualsiasi terremoto in Italia. Siamo l'unico canale in Italia che ti porta notizie dei terremoti nel momento in cui si verificano. Quindi sosteneteci così possiamo continuare, grazie. Se un forte terremoto colpisce l'Italia oggi, sabato 9 settembre 2023, e questo è dentro verso le 11 e mezza del mattino. Secondo il Centro Sismologico Europeo, il terremoto è avvenuto nel nord Italia, precisamente nelle Marche, precisamente al centro del mare Adriatico e sulla costa marchigiana, precisamente a 36 chilometri da Pesaro, e a 65 chilometri da Rimini, e una profondità di 5 chilometri sopra la superficie terrestre. Sebbene questo terremoto sia avvenuto in mezzo al mare, la sua forza è diminuita in modo significativo. L'intensità di questo terremoto ha raggiunto i 3 gradi della scala Richter. Fortunatamente questo terremoto si è verificato di nuovo in mezzo al mare Adriatico e, se fosse arrivato un po' più vicino alla costa, sarebbe stato più potente e violento. Ma per fortuna questo terremoto è passato tranquillamente e non ha causato alcun danno, solo una leggera vibrazione. Cercheremo di informarvi in seguito per eventuali altre notizie importanti e, alla fine, che possiate rimanere in buona salute.